buongiorno ragazzi e dopo e dopo ocatri e lionel rock oddio oddio vi leggo un bellissimo articolo di cui passerò il link in descrizione non sono cose che dico io poi fa pannolino quando parla pannolino che tu sai comunque vi leggo un bellissimo articolo perché che dice praticamente la decisione della figici ha procurato dice una parola molto forte troppo secondo me non troppo per descrivere quello che è successo con la figici parlo del processo prisma attenzione eh cioè l'ho dato per scontato dice che la figici ha prodotto un aborto come fu per calciopoli ovvero sia questo articolo dice hanno sotterrato tutto in maniera troppo veloce ve lo vado a leggere ricordandovi per chi volesse sostenere il canale di chiesonerati lo può fare solo gratis con un semplice clic clic ed attivando la campanellina questa è la giustizia sportiva questa è la giustizia italiana bel che bellezza non c'è da stupirsi i tempi si allungano eh quindi tre anni per una sentenza definitiva parla del processo prisma su un caso che invece la giustizia sportiva ha già sentenziato tre anni ipotetici contro pochi mesi reali e la figici attenzione a quello che scrivono che dopo tutto il casino che ha sollevato ha deciso a sorpresa gravina di non costituirsi nemmeno parte civile anomalia nelle anomalie non voglio dire che gli arbitri fino all'anno scorso erano sponsorizzati dalla juventus e non voglio dire che la figici è stata sponsorizzata dalla fiat dalla juventus per tantissimi anni poi appena c'è stato il casino hanno tolto lo sponsor perché poi io voglio dire una cosa l'anno scorso questi si lamentano tanto incominciano un campionato a cui non dovevano partecipare parlo della juventus si presentano ai nastri di partenza con un squalificato per doping e uno per calcio scommesse e nessuno gli fa nulla nessuno gli dà sanzioni tra l'altro una squadra parlo della juventus ovviamente inguardabile nel campo una squadra inguardabile che giocava solo sull'errore dell'avversario una squadra che speculava sull'errore dell'avversario perché la juventus è inguardabile come scuola di calcio una squadra che giocava per 80 minuti nella propria area con un pugile come difensore e gatti nel tutto il girone di andata non ha ricevuto un rigore contro ricordatevele bene queste cose ricordatevele bene queste cose qui quindi non dovevano partecipare al campionato partecipano a iniziano due squalificati di doping e calcio scommesse girone d'andata squadra inguardabile che gioca nella propria area per 80 minuti che gioca solo di un troppiede con un pugile dietro gatti che fa duemila falli dal rigore non gli danno un rigore contro vergogna il presidente gravina attenzione cosa diceva quest'articolo che posto in descrizione prima dichiara il caso juve sta danneggiando gravemente l'immagine del calcio italiano impugna la decisione del tar sulle carte covisoc presentando immediato ricorso al consiglio di stato e poi così per magia non si pone parte lesa nel processo ordinario qualcosa non torna scrive il giornale te lo metto in descrizione questo articolo il rinvio eh dell'udienza sul caso juve tempistica e superficialità della giustizia sportiva tempistica e superficialità della giustizia sportiva eh soprattutto quando la materia è giuricato è particolarmente complessa controverso e controverso e un giudizio affrettato e sbagliato può compromettere la gestione stessa di un club e non può essere di certo la spinta del sentimento popolare spesso iper giustizialista a determinare con celerità la decisione delle istituzioni sportive eh solo la federazione ha sempre fretta di decidere con rischio di produrre aborti come quello di Calciopoli parla di aborto la decisione della FIGC parlano di una decisione aborto sempre per colpa della solita fretta che trasforma le questioni giudiziarie sportive in partite di calcio paragone molto forte metafora usata anche per il caso Prisma dal ministro Abete attenzione tornato a chiedere regole uguali per tutte anche per la Juventus tornato a chiedere a Bete regole uguale per tutti anche per la Juventus che è finita a tarallucevino giustizia e coerenza conclude l'articolo perché se la CAF usa prima il pugno duro sulla Juve poi la FIGC non si non si costituisce parte civile parte civile perché magicamente il signor Gravina non si è costituito parte civile nel processo che la riguarda qualcosa non torna capra 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 capra